Per chi ha la ricerca di un orologio indistruttibile, affidabile e preciso non c'è scelta migliore degli orologi militari. Vengono infatti progettati e realizzati per soddisfare le specifiche militari, quindi assai resistenti per l'impiego estremo. Inoltre, forniscono spesso funzioni specializzate che possono rivelarsi utili in situazioni inaspettate o d'emergenza. Per tutti questi motivi molti corridori, arrampicatori e subacquelli li scelgono come compagni d'avventura. Naturalmente, sul mercato ci sono diversi produttori e modelli, qualche volta difficili da scovare. Alcuni di questi modelli, visto la lunga tradizione che li contraddistingue, sono anche diventati pezzi molto ricercati tra i collezionisti di orologi militari. Qui di seguito abbiamo raccolto i 10 migliori orologi militari mai realizzati in tutti i tempi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.